Come si fa, Steph? Come funziona? Allontanati dalle ceste Scusa Non mi avevi detto che era così grande come esplosione Scusa, Steph In quelle ceste, Ferri, ci sono delle armature davvero particolari e davvero divertenti Ok, spircio Ne proviamo un pochettino Cosa mi hai detto? Scusami Sbircio No, non puoi spirciare Posso? No Perché no? No, perché sono troppo belle per gente come te Allora, te ne do io una Va bene? Ok, vai Facciamo che ti do questa Lo so che esteticamente non è proprio la cosa più bella del mondo Lo capisco Non è all'ultima moda, Ferri Devo essere sincero Ma, Steph Sì Mi stai dicendo che hai trasformato una spugna in un'armatura Ma fa abbastanza schifo, Steph Aspetta anche l'elmetto per essere ancora più schifosa, Steph Beh, dai, secondo me sei carina Per niente Sembra un po' sponge, Bob Mi sta pure male il giallo, Steph Sponge, Fere Mi sta malissimo La smetti? Fere, Bob Devi smetterla Seguimi, vieni con me, va Dobbiamo andare dove c'è acqua, vero? Sì, vabbè, non è che ci vuole un genio, vai Vai, divertiti Non funziona? Prova a premere il tasto destro, Fere Prova ad abbassarti Cosa dovrei fare? Sto solo affogando Forse ho fatto l'armatura rotta, Fere Scusa Ma era uno scherzo, Premier Se vai nell'altra fonte, quindi vai un po' più avanti e continui a premere R Secondo me il riscetto lì è tutta l'acqua Vai, continua, continua, continua Aspetta Ok Guardami Ok Allora cambia la mia armatura Diventa La vedi che sono piena di acqua Inzuppata Che poi fa l'effetto acqua e poi finisce con il normale È fantastico, Stef È fantastico Ne vale la pena È bellissima Non ce l'ha bisogno Sì che c'era bisogno perché mi hai fatto mettere un'armatura comunque brutta Già è prosciugato una piscinetta che magari gli animali usavano per bere e sei una persona terribile In più mi prendi a colpi e non va bene Comunque questa era la prima armatura Allora passiamo alla seconda Secondo me questa qua è divertentissima Quindi ti darò questa Anche in questo caso non siamo proprio nelle cose più belle del mondo a livello estetico secondo me Ma non credo che a livello estetico ci sarà qualcosa che ti piace Adesso mi trasforma Però hanno degli effetti incredibili In un dispenser sto qua mi trasforma Mi trasforma Hai già letto Ho capito E beh poi ma poi è chiaro come il sole cosa sono eh Non è che ci voglia molto Steph Allora Wow Guardami Sì ti guardo Prova ad indovinare che cosa fa È la tua sfida di oggi Ti lancio le cose che ho dentro Premier Ma non avevo neanche le frecce ci le ha incorporate Sì Premier Che avevi visto che spara a 360 gradi Bellissimo Eh? Bellissimo Vuoi affrontare qualche mostro così? Ok allora aspetta che mangio un'antimabistare Senza armi proprio È solo con l'armatura Senza armi Va bene mi piace come sfida Quindi non esagerò Ti darò degli zombie pigman Ok vai Sei pronta? Vado Allora ne metto uno E due Vai Ok Ok C'è un po' di 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 Capito? Di cooldown per poterla risurre Di cooldown esatto Mmm Mi sta Mi sta che non ce la può fare No 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 Continuo a premere R mentre corri Vai 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 Ok Non vogliono sti cosi E poi intanto devo schivare frecce anche io Porca miseria che vale Si raggiungono Oh invece ora si L'ultime parole famose Vado via Steph sto morendo Continua con le frecce No non è una buona idea È come avere un arco Fere È come avere un arco Sì ma è molto vero preciso Capisci Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Guarda ci hanno com'è Mi sa che l'armatura di Spencer Fere ma gli mancava un colpo ad entrambi Eh vabbè Questa mi piace Questa mi piace E tu direi Steph ma è molto simile a quella che mi stai dando in questo momento Beh sì Stiamo rimanendo grigio per grigio ma avrà lo stesso identico effetto Mi ha fatto diventare una fornace Quello l'abbiamo capito Ok Vediamo un pochettino Però è bellissima Quindi cuocio le cose adesso, come funziona? Allora, vediamo se funziona Ciolgo i metalli, non so Vediamo un pochettino Noi prendiamo questo Mettiamo questo qua Vai Sempre R? Sì No? No, mi dice che l'effetto è disabilitato Disabilitato? Sì, non so perché Aspetta, 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 aspetta Ops Un attimo Secondo me, magari forse prima lo prendi Poi premi R E succede un'altra cosa Vediamo, vediamo Vediamo se succede qualcosa Era diventato Nabled Ok, quindi adesso Ah, forse lo devi attivare o disattivare Prova di nuovo a prendere Allora, l'ho attivato Allora prova a picconare adesso Ok Ecco, ok, abbiamo capito come funziona Ci siamo Hai visto? Te lo dà direttamente già smettato Capisci? Vai Fai vedere, fai vedere Adesso è abilitato Quindi mi dà direttamente Fornace No, grazie Basta l'armatura fornace Hai un gran stile Sei fighissimo E risparmi un sacco di tempo Allora, sul gran stile avrei da ridire Sto ancora aspettando una bella armatura Però almeno efficace Perché guarda Hai visto? Senza neanche perdere tempo a doverli trasformare Allora Per ora quale ti piacenta di più? A quanti siamo soprattutto? Ne hai visto tre, giusto? Quella spugna Eh, quella spugna? Sì Davvero? Sì Io per ora ti direi questa qua Troppo più utile delle altre Cioè la spugna alla fine che serve Prendi acqua Appunto, non serve a niente Ma è bellissima E io invece voglio cose utili Distruggimi sto blocco Mi da fastidio Ok Tu dai il piccone La prossima Eh sì, anche la prossima mi piace La prossima mi piace Perché tutti sanno che questo qua È il mio oggetto preferito Di Minecraft E quindi è la mia armatura preferita Credo sia brutta come la fama Devo essere sincero Però almeno cambiamo un bel po' colore Ok Hai già capito che cos'è? Di bon meal Esatto Perché hai detto che è il tuo oggetto preferito Anche se non è vero che è il tuo oggetto preferito Perché è il tuo oggetto preferito Oh mamma mia È il gelataio Mi scusi, che gelati ha? Ma quindi faccio crescere le cose Aspetta Oh Sì Allora Aspetta Steph Che c'è? Vieni No, 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 ma Fere Andiamo a far crescere Sono attrezzato Fere Fermati Guarda Fermati Porca miseria Vieni qua Qui, 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 qui Guarda Hai visto? Ho fatto crescere tutto nel campo dei villaggeri Hai visto? Allora Mi sono attrezzato Perché volevo provarla al meglio Quindi ho preparato dei semi di melone Pronti Belli, belli, belli Per il tuo test Ma non si possono mettere così Vai Si mettono staccati Steph Secondo me crescono lo stesso Vedi? No, non crescono Porca miseria Ma perché ha preso i meloni? Ma perché ha preso i meloni? Così, guarda Aspetta Porca miseria Non ci sto già guardando Sono già andato a piantare Le barbabietole Vieni qua Ce l'hai fatta alla fine Più o meno, no Vai con queste Le barbabietole vanno più tranquille Questa è molto meglio Però aspetta Mi cresce talmente tanta erba attorno Non funziona bene Continua a spammare? Eh sì, non funziona bene Comunque bocciatta Prossima Prossima Dove sei, Steph? C'è troppa erba Allora, questa la provo io Perché sta provando tutto il fere Ma è anche carina Guardami Sì, questa è carina Ciao Finalmente una carina Allora, teoricamente Se io premo R Che hai fatto? Guarda Ok Continuo a non capire Davvero? Sì Vede, sono una crafting table ambulante Premo R e crafto Oh mamma mia Capisci? Bella Questa è bella È molto utile anche Eh? Guarda, mi sono fatto Dei gambali e degli stivali Mentre stavo così a camminare Tranquillo, tranquillo Davvero, davvero carina Carina La prossima è la più bella Ok, vai Secondo me In generale Quindi mi sa che la riprovo io Anche perché tanto è brutta Fretto che non vuole più le armature brutte Si lamenta sempre Di fesserie nell'inventario Ecco Ok No, la voglio io questa Dov'è? Dov'è? Ce n'è un'altra per forza No Non c'è Vado? Vai, Steph Dammela Vado? Dovesti rimbalzare Tecnicamente Buttati da un posto alto Aspetta Non si vede nulla da qui Io te lo dico Ok, ora funziona Praticamente devi premere shift E spazio in contemporanea E inizi a rimbalzare E a correre velocissimo Voglio io, Steph Torna qui Arriva, Fere Io me la prendo Guardate Guardate che spettacolo E continua a non darla neanche a me Il problema è che quando Che succede? Se io faccio Allora, vediamo Perché è in base alle altezze Quindi a quanto comunque rimbalzi Come il vero slime Se io faccio così Rimbalza un po' di più Ma se io andassi sopra una montagna Rimbalzare Teoricamente diventerebbe anche ora più forte Esatto Vediamo Vediamo tipo da qua Qua sono abbastanza in alto Vediamo Pum 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 Finché non riesci a blockarti Sì, 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 esatto Ok, allora te la do E mentre vado a prendere la prossima Buon divertimento Grazie È davvero, davvero È anche molto carina questa È bellina Sì, sì, sì È promossa in tutto e per tutto Allora, quindi con questa abbiamo finito Sì Rimetto questa a posto Che io non sono disordinato come Fere Ne abbiamo ancora parecchie Però queste sono un po' più tranquille Secondo me Prendiamo prima questa Mi piace un sacco Allora, Fere, com'è? Ti stai divertendo? Molto Ciao, Steph Ciao Il problema è che ci sono blocchi che ti bloccano Perché se tu praticamente prendi bene Servirebbe una piadula padana Esatto, esatto Allora No, questa era bruttissima Mamma mia Che brutta Fere, puoi colpirmi quanto vuoi? Sì, freddo Cioè, si sta ghiacciando la stanza in sto momento Dimmi Guarda il mio schermo Dammi carne Carne? Ho fame Tieni Grazie Guarda i miei cuori Ok Ok Hai visto? Sì, li ho visti Eh? Diventi invincibile praticamente Eh, praticamente Posso dare tutti i cepponi che voglio? Sì, sì, guarda Oh, prima o poi ti uccido Prima o poi sei morto No, ci vuole troppo Non ne ho più voglia Fere, ma che fai? Sto ancora a venti cuori Vieni Mi sa che non ti stai impegnando molto Comunque questa qua Ovviamente è la bedrock armor Allora Prossima Te ne voglio ridare una a te Ok, dai Ti darò questa Secondo me questa qua ti potrebbe divertire L'ultima la facciamo per ultima Perché è ultima Ok, ci sta Ci sta, ci sta È deciso che sia l'ultima Non volevo spoilerare quale era E mi sono reso conto che a quel punto il discorso perdeva senso Ok Allora Ok, sono di sabbia Cosa può fare una roba del genere Non è sabbia È handstone È molto diverso Fere Ah, ok Non l'avevo letto Quindi, dato che è handstone Cosa farà? Cosa può fare? Non lo so Allora Premi R E l'ho premuto Non succede niente Davvero? Ah, ora sì Oh Fere Ok, ok Non devi spammarlo Ok È come un enderpearl Miri E premi R Ok, devi memorare un punto, eh Quindi non è come l'enderpearl Vedi, devi proprio mirare con la visuale Ah, ok Aiuto Dove cavolo sei finita? Sotto terra stessa E sei in grado di passare attraverso i blocchi Non so come fa Sì Cosa? Sì, si può Si può Non so come No, non lo saprei rifare Vai Ci provo Ok, sono sotto Guardo sopra e torno su Ma C'è neanche ti vedo Ah, eccoti Ma porca miseria Ma è bellissima Aspetta, provala E devi mirare proprio sotto Sotto i tuoi piedi Ok Capisci? Ok Aspetta che ti butto tutto Vai Vai Allora Dai, armatura Uno, due, tre E quattro Vado? Vai No, sotto i tuoi piedi Vado Vai sotto terra Mi sto divertendo così Ma ci mette molto quando punto lontano Ah no, proprio punta dove ho il cursore Esatto Va dove hai il cursore Altrimenti non è in grado di andare Quindi non è come l'enderpearl che fa parabole o cose così Cioè, dove vedi va, capito? Cioè, sto par... Passa attraverso qualsiasi cosa Sì, 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 sì È bellissima Bellissima La prossima credo che distruggerà un po' tutto il mondo Infatti è la penultima Dopo... Come si fa, Steph? Come funziona? Allontanati da le ceste Scusa Non mi avevi detto che era così grande come esplosione Scusa, Steph Recupera l'ultimo Colpa tua Pensavo fosse un'esplosione piccola Invece fa una voragine, Steph Qui ma frattempo sono cresciuti i meloni Sei felice? Che sono cresciuti i meloni Premiere ed esplodi Nel vero senso della parola Ma esplodi per sempre Per non ti avvicinare Per tutti gli oggetti che ci servono Smetti Tu prendi danni? No No? Vai No, io non le prendo Quanto puoi spammare? Ha un po' di cooldown, sì? Sì Sì Ok, più o meno un secondo Tutti gli oggetti alla fine Ho notato che non li puoi spammare Vabbè, giustamente Allora, ti faccio affrontare dei mob? Vai Ok Aspetta, sono in un buco però Buttameli qui sotto Aspetta, eh È un'arena questa Vai, Steph Prima li metto Poi me ne vado E poi vai Finito Almeno l'hai fatta apposta Dimmela Che cosa? Ah, sei morto anche tu Ah, non era apposta? No, non l'ho fatta affatto Secondo te come li ho messi i mostri? Non lo so Pensavo te ne fossi già andato E che fossi un po' più veloce, Steph Invece sei lento Ed è per questo che muori Perché sei lento Allora, controlla sei pezzi di armatura di Glowstone, va? Che è l'ultima armatura No, non ho nulla io No, io ti ammazzo Cioè, l'abbiamo persa No, non l'hai persa Dai, non c'è più È da qualche parte Lei fatta esplodere Appetito Armatura in Glowstone Notte Noti qualcosa? Sono una lampada vivente Esatto Guarda Guarda Hai visto? Sì Aspetta, mettiamo ancora più notte Time 714.000 Che è proprio buio pesto E guarda Questo è strautile Guarda, probabilmente la più utile Perché andare in esplorazione la notte Senza doverti preoccupare delle torce E di tutto il resto È bellissimo Però secondo me Insieme a quella della fornace Perché anche quella la trovavo davvero fenomenale Sì, ma te ne prendi un po' io in tasca Votate con il sondaggio E anche nei commenti Porca miseria No, aspetta, aspetta E fateci sapere quale secondo voi è la più utile e la più bella Perché secondo me è una scelta comunque difficile Io continuo a dire quella di Spugna Perché sono davvero fantastiche Vede, per di più Una cosa che non ti ho detto È che noi ne abbiamo provate nemmeno tutte Perché sono talmente tante Eh, lo so che sono tantissime Che noi ne abbiamo provate nemmeno tutte Perché ho capito che comunque Sono tutti blocchi di Minecraft Esatto Esattamente